E' stato presentato il programma croceristico 2024 di Gallipoli nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la biblioteca comunale Sant'Angelo e alla quale hanno preso parte il sindaco Stefano Minerva, la consigliera delegata al settore croceristico Titti Cataldi e l'agente marittimo Sergio De Luca. Tante le novità per Gallipoli dopo il successo della scorsa stagione. Quest'anno saranno 18 le navi da crociera che da marzo a novembre attraccheranno nel porto. La prima imbarcazione che inaugurerà il fitto programma croceristico sarà la nave Le Buganville che approderà nella città bella il 25 marzo. Gallipoli si conferma quindi una meta d'eccezione nel panorama turistico internazionale, primato che la città continua a mantenere con orgoglio impegnandosi a raggiungere livelli sempre più alti. Solo pochi mesi fa infatti nel porto è stato inaugurato il terminal per le crociere di lusso che rappresenta il punto di arrivo del lavoro portato avanti dall'ufficio De Manio del comune di Gallipoli e l'avvio concreto del turismo croceristico sull'intero territorio del Sud Salento. Le aspettative sono tante della certezza di una scommessa vinta dalla città di Gallipoli iniziata un po' di anni fa il ragionamento di investimento insieme a Confindustria, sezione turismo, al GAL, alle agenzie marittime del territorio. Siamo riusciti oggi ad avere numeri importanti, 18 crociere già confermate per la stagione per l'anno 2024 che inizieranno ad aprile e finiranno a novembre. Questo vuol dire tanti turisti e vuol dire soprattutto entrare in una fetta di turismo fino a pochi anni fa sconosciuto dalla città di Gallipoli. Siamo veramente orgogliosi di questo, il lavoro ha pagato e come ho detto prima una scommessa vinta dalla città di Gallipoli.